L'ordine degli ingegneri della provincia di Taramo ribadisce, il genio civile di Taramo non funziona e questa volta si chiede l'intervento immediato del presidente della regione D'Alfonso. Cos'è che non funziona? I problemi li abbiamo evidenziati oramai da diverso tempo. Sono stati già noti interlocutori con gli uffici per cercare una soluzione al problema, ai ritardi, alle risorse umane molto ovviamente carenti, a problemi precedenti a questa gestione. Abbiamo dato la nostra disponibilità per dare una mano alla soluzione, ma la soluzione oggi non l'abbiamo trovata e di questa mattina l'invio di una nota ben circostanziata al presidente della regione Abruzzo, evidenziando il problema affinché intervenga in maniera decisa e puntuale. Ribadiamo un concetto, il fatto spesso di fare annunci sulla semplificazione, il fatto di una regione che possa facilitare certi processi. Se non entriamo nel merito dei problemi, nella parte strutturale, forse più che semplificare andremo a complicare il problema. Su chi si ripercuote in particolar modo il malfunzionamento del genio civile? Essenzialmente sul mondo professionale, sul mondo delle imprese o di quelle aziende che stanno aspettando da tempo i sopralluoghi per aprire un'attività. Sono soprattutto le lungaggini quelle che in qualche modo sfiancano queste categorie? È vero che le nuove indicazioni normative hanno un po' dilatato i tempi perché si è passato da attività di deposito a autorizzazioni, ma è pur vero che nelle zone 3, mi riferisco alla zona del mare, sismicamente classificate come 3, lì basta il deposito, però anche lì i tempi si sono allungati a dismisura. Non è più possibile, noi comprendiamo che ci sono elementi che vanno controllati, che vanno fatti, ma all'interno di un'organizzazione strutturata, all'interno di processi digitali, ma seri, messi in piedi in maniera seria, molto meno i tempi si possono accorgiare, i problemi si possono risolvere. Cosa potrebbe fare concretamente il Presidente della Regione? Intervenire e capire cosa è successo in termini di risorse, in termini di capacità e in termini di organizzazione.